E' la puntata numero 8 di Salute, ben ritrovati. Ci troviamo presso l'ospedale Fracastoro in San Bonifacio per documentarvi un momento convegnistico che vuole essere un grande momento di informazione alla cittadinanza. Si parla infatti, e le immagini già ve lo dicono, del progetto ARCA, che significa assistenza, ricerca, cura per l'anziano. Un progetto messo a punto dalla direzione generale dell'azienda Sventi di Verona, unitamente a un comitato scientifico multidisciplinare, e che si propone un modello organizzativo fortemente orientato all'integrazione delle cure e delle conoscenze, il fine di raggiungere una continuità di assistenza socio-sanitaria per tutti i cittadini anziani del territorio dell'est veronese. Questo è d'altro nell'odierna puntata, ben ritrovati. Sommario. In questo numero. Progetto ARCA, la ricerca, la cura e l'assistenza all'anziano fragile al centro di una rete di servizi. Dream On, la danza e la musica, strumenti efficaci contro la droga. Parto. È più sicuro se è fisiologico oppure in acqua e in dolore. Plantare. Se personalizzato, si usa anche con calzature sportive. Sushi. Il pesce crudo deve essere garantito anche dai controlli sanitari. Anziani. Le case di riposo sono protagoniste nel processo assistenziale del progetto ARCA. E concluderemo a tavola con le sane ricette di salute.